Niki Giusino, il disturbatore televisivo per l'automacia www.niki-giusino.it mi trovo in via Allegri e su questa autovettura ho trovato una scritta molto molto strana cioè se qualcuno è in grado di decifrarla sarei molto contento manca di che è parcheggiato sulle strisce questa pezza è bella oppa cosa vuol dire? scrivetelo nei commenti se qualcuno lo sa sale